nell'altro video che avete visto parlando delle capacità ancora non esplorare dal 100% di rdna3 voglio far vedere questo lo commentiamo in tempo reale insieme facendo vedere i sottotitoli in inglese fa vedere non manipolo nulla ok l'ho sempre fatto e poi ve li traduco ovviamente a gruppi in italiano per far vedere come l'undervolt sulla 7800 xt è davvero riuscito molto bene e ancora le prestazioni sono in linea con la 4070 di nvidia ma avendo lo stesso power draw quindi l'efficienza è attuale e poi c'è anche una chicca finale che andremo a spiegare quindi senza ulteriori indulgi andiamo a vedere ovviamente che cosa ci dice la signorina in questione che ha fatto il test prima da 7800 col power draw totale che ovviamente più veloce della 4070 almeno la sterilizzazione e poi il power draw ottimizzato veloce attenzione in my review that i posted a few days ago i said that the radeon rx 7800 xt is a great gpu but the fact that it uses a lot more power than the rtx 4070 can become an issue for anyone that games a lot and pays a lot for electricity like we do here in the netherlands for example now many of you don't have to worry about your electricity bill for one reason or another so this video might not be interesting to you allora la ragazza dice semplicemente che dopo aver visto il video dell'altra volta e le prestazioni del 7800 che è una grande scheda c'è però nazioni dove la bolletta costa molto dice abbassare il consumo della scheda video può essere interessante in altre nazioni dove non c'è dice non interessa quindi saltate direttamente il video questo è il succo della parte iniziale e allora praticamente ha detto vediamo che cosa può fare la 7800 XT che all'incirca tira via 286 watt confrontato alla versione undervolted confrontato alla ovviamente 4070 e qui ci sono un attimino i sottotitoli le li levo per far vedere ovviamente i dati completi e poi li rimetto, eccole qua praticamente vedete che la 4070 founder edition 196 watt la 7800 XT gaming overclock 286 watt la reference 252 watt e quella 7700 XT e poi lei la porta all'incirca a 200 watt vediamo come fa questa cosa che è davvero semplice con il Radeon software Adrenaline adesso lo vediamo mando avanti sta dicendo praticamente quello che vi ho detto sta commentando questa parte che magari senza romperci troppo i zebedei mando avanti andiamo alle parti un pochettino più interessanti allora lei dice adesso lo vediamo come farlo con il software di AMD è davvero semplice lei fa una cosa veloce ma alla fine dice una cosa interessante allora dice la prima parte da vedere è il GPU voltage option vedo se riesco a zoomare ancora di più così si vede meglio ok eccolo qua spero che si veda bene cerco di centrare anche l'immagine proprio per far vedere un pochettino meglio il tutto ecco qui seguiamo le istruzioni allora lei dice che questa è una grande opzione e a volte si vede che abbassando leggermente il voltage si vedono le prestazioni che sollevano perché la stabilità in pratica non avvengono tutti quei sistemi che abbassano il clock per non bruciare il chip quindi questo è il primo punto se volete già avere un discreto diminuzione e un aumento magari di prestazioni andate di undervolt fino a trovare il punto di stabilità della CPU e della GPU perché sotto non si può andare se no crasha come fare questo prendete diversi giochi e fate il benchmark e vedete se il gioco 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora è stabile lo lasciate lì fate una media con diversi giochi oppure cercate il gioco più sensibile poi vi metterò anche le guide di Fabio Prisco e lui fa vedere che ha trovato un gioco che è il più sensibile e si è basato su quello per avere l'undervolt migliore eccolo qua allora lei dice che per avere mo li abbasso poi lo zoom per avere il massimo dell'undervolt a volte questo non è sufficiente bisogna fare dell'altro sentiamo cosa ci consiglia sollevo perché se no non si vede dice di ridurre il power target al 90% questa è la prima cosa al minimo che il 90% è il minimo allora poi bisogna raggiungere il bilanciamento fra il voltaggio della GPU e la velocità della GPU stessa e poi anche della RAM si può lavorare quindi bisogna trovare il valore minimo che può andare e poi uno volendo può anche spostarsi un pochettino per vedere se quel voltaggio regge il clock richiesto in pratica uno dice cerchiamo come l'ho detto io di raggiungere il massimo o il minimo power draw quindi la richiesta di potenza con le massime prestazioni possibili diciamo che io voglio andare al massimo a 200 watt e vediamo fino a che clock riesco a portare della mia GPU e poi magari posso anche muovere con i watt con il voltaggio del core per raggiungere proprio quello sweet spot che io richiedo allora riabbasso il ovviamente lo zoom lo riportiamo e lei che cosa ci dice? non posso dire qual è il numero esatto ma fate delle ricerche allora ha detto cosa giusta discrame non si può dire in generale anche con un tipo di brand di scheda video quale possiate raggiungere magari qualcuno ha una scheda video particolare costruita un po' meglio che gli consente un po' di più quindi anche all'interno lei utilizza una gigabyte anche all'interno della stessa scheda anche se utilizzate una gigabyte come qui da test o anche una 7900 una GRE quello che volete 7700 fate sempre dei test manuali perché può essere che raggiungete prestazioni migliori ovviamente ricorda ve lo ricordo io che l'underbolt potrebbe invalidare anzitutto invalida la garanzia potrebbe danneggiare la scheda quindi chiunque fa queste pratiche lo fa a suo rischio e pericolo questo è ovviamente sicuro allora ci sono dei software all'adrenaline fa del recovery ovvero sia se andate troppo sotto troppo sopra e fa dei crash madornali ovviamente c'è la possibilità che fare un reboot riporta il setting in modo standard quindi cercate di non raggiungere i limiti in cui anche Windows crasha perché dopo bisogna fare un reboot da un reset da BIOS da BIOS come volete quindi almeno Windows deve partire bene così se in un gioco mi crasha posso riabbassare subito i voltaggi senza avere problemi però di solito ultimamente i software sono molto stabili fanno un recovery quindi portano un settaggio standard già in automatico ecco lei ha detto tutto lo si fa a proprio rischio attenzione che anche se l'undervolting sta a ludare perché utilizza meno potenza c'è il rischio di fare dei crash madornali o di danneggiare la GPU e la RAM quindi ve lo ripeto chi lo fa lo fa a proprio rischio solitamente ho visto che non ci sono gravi problemi quindi se uno va a step piano piano tutto dovrebbe andare bene saltiamo la parte questa qui che parla dei rischi ok eccola là l'avete vista riportiamo un attimo indietro eccola qua vedete che da 286 è passato a 202 watt che mi serve un 40% in meno di riduzione adesso gira mediamente a 2.220 gigahertz invece 2.50 gigahertz sotto la 4070 e sotto vediamo un attimo i commenti e sotto l'overclocking di stock vedete però uno volendo scusate la reference è 2.360 ho sbagliato gatta quindi è sotto la reference card allora praticamente c'è un grande riduzione di clock un 10% stiamo parlando però è nella stessa classe di power draw quindi della stessa uso di watt della 4070 adesso faccia far vedere le performance 40% in meno di watt quanto sono calate le performance andiamo un po' avanti allora lei dice che in Baldur's Gate 3 il suo gioco preferito 1440p ultra setting è calato di un circa mi sa 10% adesso è leggermente più lenta della 4070 prima la 7800 era più veloce però il 1% low è ancora nel range della giocabilità è passata da il massimo da 114 a 127 che non conta niente è ancora playabile al massimo e da 1% low da 65 a 58 ancora giocabile è calato leggermente del 10% 1% low per dargli da 60 fps a 60 fps ma la esperienza non è così differente da una stock 78 non è non è differente non se ne accorge nel meno dice che in flight simulator vede un drop relativamente grande sono 10 frame dalla versione overclocked ma al 1% low 5 frame è ancora tight to tight quindi molto vicino alla 4070 founder edition il drop è di 13% ha detto che viene dall'essere più veloce della 4070 ad essere più lenta ma compete ancora molto bene calcolando che il 40% di watt è in meno ecco qua un altro test Remnant 2 4% drop performance God of War appena 4% 1440p quindi 1440 settaggi ad alti guardate praticamente che viene accorgito da 171 e 165 e pure 1% low da 147 a 137 vedete è ancora più veloce della 4070 se la batte in astralizzazione e ha detto praticamente rimettiamo un attimo indietro che tra la overclocked undervolter e la stock overclocking sempre 4% più o meno tra alcuni casi vedete Doom Eternal che è un pochettino più alto ma passate da 327 a 306 fps ancora giocabile l'esperienza è grande ma 40% ricordo meno di corrente usata no dal 4% e il 13% più veloce l'unica star field che è 19% più veloce in star field però lì potete sempre farvi i profili perché c'è la possibilità di farli e quindi magari riportare un pochettino più avanti per diminuire questo gap attenzione 40% di consumo in meno sullo stock perché su quell'altra stiamo un botto di più al 60% in meno di potenza perché da 240 a 50 watt dello stock a 200 cioè mostruoso i risultati che consegue quindi chi è che dice che il DNA3 non è efficiente di energia lei dice 9% lo posso ignorare di prestazioni ma 40% di power low in meno è significativo vedete come regge bene la scheda e dice ovviamente avete visto la comparazione con la 40 70 sia prima che dopo è molto molto interessante vedere che c'è una scheda che va a quelle prestazioni consumate meno mi costa di meno allora dice che praticamente ci sono alcuni giochi favorito di nvidia alcuni giochi favorito di md e potrebbe essere il caso uno gli interessa quel tipo di gioco però quando si allarga la platea di giochi la cosa diventa molto interessante e si vedete che praticamente la scheda video va davvero una bomba e fa vedere alcuni dati eccoli qua e i giochi undervolted sono l'1% davanti a vedere alcuni giochi alla 40-70 mediamente di questa XT undervolted praticamente ha detto sono uguale tight c'ha ragione 1% che te ne accorgi solo per i malati oh la mia scheda è più veloce dell'1,2,3,4 ha detto che praticamente l'undervolt ha portato a una scheda video più fredda e più silenziosa e praticamente ha detto che l'eventore quasi non si sente senza pare nessun manuale una cosa che risulta strano quindi c'è ancora da lavorare secondo me è che in alcune parti del chip l'hotspot è diminuito però la GPU e la nuova sono risultate più calve di prima perché probabilmente la curva della ventola non è stata settata bene allora va troppo giù quindi risettandola bene le cose tornano in parità quindi c'è ancora molto da settare da scoprire come prestazione probabilmente e lo vedremo dopo via l' strategic suporto la la in l' alla l' 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 ma il hotspot è diversi gradi più altissimi gradi, che è probabilmente lo causato il card a riduce il fan speedo. Still, questa è una migliore esperienza più altissima perché i core e memory temperature sono ancora più within limiti, ma anche potete mani aumentare il fan speedo se volessero a ridere i tempi, mentre mantenere il card più quieto che era in stock settings. e you can just you know play with this a little bit until you reach your preferred balance che cosa ha detto che nonostante leggero aumento di temperatura è ancora nei limiti di sicurezza ma se uno vuole raggiungere ancora calore minore e avere sempre una scheda silenziosa può giocare con il fan speed e l'intervento quindi il range di intervento ma è ancora nonostante il gioco con questo fan speed ancora più silenziosa e più fredda della scheda presente perché l'hot spot la parte più calda della scheda è più fredda di precedente quindi il fan speed e l'eventore lavorano di meno so an rx 7800 xt with a very aggressive undervolt can actually compete with the rtx 4070 when it comes to raw performance as well as power efficiency which makes the rx 7800 xt even more interesting than it was before because then it is just up to a simple decision of how much these cards cost in your region and if nvidia's stronger feature set is worth that possible price difference allora lei dice ovviamente a questo può diventare la 7800 ancora più interessante soprattutto se i prezzi rimangono differenti e la scelta di invidia ovviamente perché se uno sceglie il prezzo maggiore che paga per la 4070 e se quelle feature che ti da più invidia tipo retracing dls interessano allora ovviamente uno sceglie quella scheda però ha fatto vedere che l'efficienza sulla rx 7800 xt c'è sulla dna3 c'è non è stata ben sfruttata di AMD probabilmente remember that undervolting can really very per card and you will most likely end up with slightly different results even if you get the same gaming oc model that i used for this video and you also have to remember that it takes a bit of time to set it up and it can involve some risks so if you're not comfortable with that that is completely fine but if you love to tinker with your hardware and you love to play with settings so you can really sit down and tune the undervolt to perfection you will most likely see even better results than i did because this was a relatively quick job and it was already worth doing it so it is not for everyone but it does show that with some time and effort the 7800 xt can actually make sense in a high power cost country as well assuming AMD keeps their pricing reasonable this ok leviamo lo sponsor perché non sponsorizziamo nessuno ha detto una cosa semplicissima io l'ho fatto velocemente e ho raggiunto questi risultati però se uno ha tempo e decisione di farlo può raggiungersi risultati ancora migliori magari quel power draw con prestazioni superiori e ha detto ovviamente nelle contene dove si paga la corrente ha ancora più significato una scheda del genere sempre che AMD mantenga i prezzi bassi e competitivi confrontata alla 40 70 quindi come avete visto anche dal video precedente da questo video rdna3 secondo me è utilizzato non proprio bene e pensate se uno prende una scheda anche founder edition ci mette una pasta termica migliore un cooler migliore magari utilizza anche il rame come interpose fra la il cooler che abbassa la gradazione può raggiungere dei risultati non indifferenti di power draw quindi utilizzo dei watt semplicemente mettendosi là e piano 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 giocando con questi risultati undervolt e underclock molto spinto ha portato a ciò davvero interessante quindi in conclusione di questo video per chi dice rdna3 non vale un cazzo non vale ancora si può lavorare molto si può ottenere tanto e delle prestazioni raw performance lo dice ancora compete con la 40 70 ovviamente vale se il prezzo è sempre basso abbiamo visto ancora una volta video precedenti video attuali video che faremo in futuro sulle prestazioni rdna3 non esplorate come abbiamo visto qua mega prestazioni non esplorate in questi video se vi sono piaciuti lasciate un like commentate iscrivetevi perché ne riparleremo vi dico questo a me non mi paga nessuno non mi sponsorizza nessuno mi piace vedere le architetture interessanti e ancora un tanto di cappello a invidia le sue performance non mi piace quello che ha fatto col prezzo e che sta facendo perché confrontata alla serie 3000 alla serie 30 alla serie 40 non c'è stato quel incremento di prestazioni se volete vi faccio vedere le chart che ha presentato invidia che ha sponsorito la serie 30 la serie 30 che la serie 40 e la serie 40 diciamo è stato un po ve lo dice uno che quando ha fatto ricercatore professionista pagato quando ha scelto le macchine per fare i propri simulatori ha scelto invidia ha scelto internet io sono al di fuori di ogni dubbio di ogni possibilità di giocare per una parte ha scelto quello che credeva migliore allora ed era il migliore ok perché non sono imbecille quando c'è da fare delle cose scelgo delle cose quando c'è da fare altre scelgo altre e poi faccio delle comparazioni prima di strillare al lupo a lupo di ritornare di tribra amica st amica verso spicci presento i dati voi fate le prossime scelte e le vostre scelte in base a quello che più vi piace in base ai soldi in base a quanto invecchia l'hardware 8 gb di memoria neanche prendetelo in considerazione 12 neanche perché 16 in su perché il futuro è quello e il trend e la tendenza è quello al prossimo video